Il 25 gennaio si avvicina e dopo l'ordinanza firmata ieri dal governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, che fissa lunedì la ripresa delle lezioni in presenza al 50% per le scuole superiori, volgono al termine i preparativi per il ritorno in classe degli studenti. Fondamentale per una ripresa in sicurezza il potenziamento del trasporto pubblico locale, ma noi siamo già pronti, dichiara Massimo Benedetti, direttore di Adria Bus Pesaro e Urbino. Abbiamo giunto 22 autobus, le corse sono molte di più, è il risultato anche della partenza che abbiamo pian pianino fatto da settembre fino a incrementare la data in cui la didattica è stata sospesa. Ripartiamo con il 50% come capienza a bordo e il 50% di didattica in presenza, quindi dovremo andare con una certa tranquillità, considerando che abbiamo voluto mantenere un servizio potenziato proprio per avere dei margini ulteriori di tranquillità sul rispetto della capacità a bordo degli autobus. Oltre al potenziamento del trasporto pubblico locale, inoltre continua Benedetti, abbiamo anche suddiviso e aumentato le fermate, poiché le maggiori criticità come assembramenti non sono state riscontrate tanto nella fase dell'ingresso a scuola, ma all'uscita quando i ragazzi si dirigono alle fermate. In questo modo si evita la creazione di assembramenti, snellendo così i gruppi di ragazzi. Al Pincio, ad esempio, qui a Fano, ci saranno quelli che una volta erano concentrati in due fermate, i servizi vengono spostati su quattro fermate, in modo che i ragazzi, a secondo le direzioni di destinazione, si dividono e quindi dimezzano ulteriormente la possibilità di creare assembramenti in attesa dell'autobus. La produzione di cilio sta ipotizzando di utilizzare dei volontari anche a supporto delle nostre risorse, che in qualche modo possono consigliare e supportare i ragazzi nel frangente, da quando attendono l'autobus e proprio a salire a bordo. Per quanto riguarda i biglietti e gli abbonamenti autobus, com'è la situazione sotto questo frangente? I ragazzi continuano a fare gli abbonamenti oppure si fanno biglietti giorno per giorno? Intanto i ragazzi che avevano fatto l'abbonamento l'ultimo trimestre 2020, l'inizio del nuovo anno scolastico, hanno avuto la possibilità di avere un voucher per riutilizzarlo o per comprare altri biglietti o abbonamenti. Certo, i ragazzi fondamentalmente hanno una buona parte rifatto gli abbonamenti, ma c'è qualcuno che naturalmente ha preferito utilizzare il biglietto, visto che ancora non c'era una chiarezza su quando sarebbero riprese le scuole.